Un commissario per la linea ferroviaria adriatica Bologna-Lecce è la richiesta inviata dalla Regione Puglia al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'unico modo per l'ente pugliese è per imprimere un'accelerazione alla realizzazione, data la strategicità della linea ferroviaria interessata e la necessità, non più procrastinabile, di incrementare il livello di servizio del traffico passeggeri e del traffico merci. E non solo, perché oltre al commissario, il presidente Michele Migliano e l'assessore ai trasporti Anita Mauro di Noia, firmatari della nota, hanno chiesto anche che venga garantita l'intera copertura finanziaria per l'esecuzione dei lavori in questione. Al momento lo Stato ha autorizzato un finanziamento di 5 miliardi di euro mirati alla velocizzazione della rete con una riduzione dei tempi di percorrenza però nella tratta Bari-Bologna di un'ora, senza diminuire il numero delle fermate. Per questi interventi, a fine del 2022, il Ministero dei Trasporti ha affidato a RFI il compito di sviluppare la progettazione di fattibilità, emessa la necessità di ottenere ulteriori 4 miliardi e 200 milioni di euro per gli interventi previsti, tra cui anche l'adeguamento della linea con le caratteristiche dell'alta velocità e alta capacità. Tenuto conto che l'intervento è caratterizzato da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva e da complessità delle procedure tecnico-amministrative con un rilevante impatto sul tessuto socio-economico, la nomina di un commissario straordinario imprimerebbe un'accelerazione necessaria, hanno sottolineato il Presidente Emiliano e l'Assessore Mauro Di Noia, ribadendo che l'opera è inserita nel piano attuativo 2021-2030 del piano regionale dei trasporti, dato che il sistema di trasporto ferroviario della Puglia presenta una sostanziale concentrazione dei servizi proprio lungo la direttrice aderiatica. La linea in questione, oltre all'importanza dal punto di vista dei passeggeri, fa parte anche del corridoio scandinavo-mediterraneo della rete TNT, costituisce l'itinerario merci di collegamento verso il nord dai porti di Taranto e Brindisi, con interporti, scali del Nord Italia e della Germania e collega Bari e Brindisi con le nazioni del centro Europa.